oggi per preparare queste zucchine utilizzerò una ricetta di una mia amica una mia amica che si chiama lori è da un po di tempo che me l'aveva data e adesso le voglio fare quindi le chiamerò le zucchine alla lori ciao lori ho usato quattro zucchine medie tagliate a bastoncini e leggermente unte in un'altra ciotola andremo a mettere un po di parmigiano che ho già messo un pochino di farina sale paprika dolce e pane grattato questo è misto avevo grattato anche un po di pane integrale che mi era avanzato mescoliamo un po e ci tuffiamo dentro le nostre zucchine tagliate a bastoncini forse la fabbrica ancora un pochino mescoliamo bene poi se necessario aggiungiamo ancora farina ancora molliche di pane velocissimi da preparare adesso prendiamo una teglia da forno foderata con carta le disponiamo e le andiamo a cucinare in forno caldo a 180 gradi per 15 20 minuti ecco la nostra teglia foderata l'ho bagnata la carta è strizzata trasferiamo le nostre zucchine sulla teglia sistemiamo bene bene e un goccino di olio sopra pronte per essere infornate ecco la mia